Allora eccoci qui, un saluto a tutti, questa è un'intervista, più che altro una chiacchierata con diciamo uno di voi perché da un commento, poi abbiamo iniziato un po' a scambiarci opinioni e pareri, mi ha scritto Giorgio che adesso è qui con me e oggi appunto gli ho detto ma perché non vieni, non ci facciamo questa chiacchierata ad appannaggio anche delle altre persone perché sicuramente quello che diciamo interessa tanti. Quindi vi presento Giorgio Rasetto, ciao Giorgio. Ciao a tutti. Ho forse pronunciato alla spagnola che suona Madrid la Zeta. No va bene perché essendo un cognome Ligure la Zeta diventa simile a una S. Ah perfetto. Quindi in genovese sarebbe Churazetum. Perfetto, allora l'ho pronunciato bene. Quindi viene perfetto così. Benissimo. Tu Giorgio sei avvocato e mi hai scritto dopo che i miei video sulla intelligenza artificiale, in particolare sui servizi oggi gratuiti, dico pilot eccetera, che danno la GPT Pro, cioè la GPT che fino a poco tempo fa era solo a pagamento, disponibile per tutti. Li hai un pochino provati e mi hai detto no, non so, un po' per il tuo lavoro, non funzionano tanto bene eccetera eccetera. Ma al di là di questo ci arriveremo. A me quello che è piaciuto è stato il fatto di mettere in discussione sicuramente te stesso, la tua professionalità, tu sei avvocato, poi vedremo, e provare a utilizzare questi strumenti, cosa non immediata, soprattutto oggi, soprattutto in Italia, dove c'è sempre un pochino di diffidenza. Quindi inizio col chiederti, tu hai avuto sempre una passione per la tecnologia o ti è venuta adesso con sta roba dell'intelligenza artificiale? Diciamo che io, fin da ragazzo, ho amato molto la fantascienza, non so se è presente Isa Casimo, che è uno dei grandi ispiratori di Lombardo. Le leggi della robotica, quindi ho sempre avuto quella passione. Quindi l'idea dell'intelligenza artificiale ha risvegliato in me sicuramente il mio animo da bambino, perché ormai è una scretezza, insomma, no? E quindi io ho notato, a differenza anche di altri colleghi, in parte anche forse dei figli, ho notato in me un certo entusiasmo, in altri magari un po' meno. Quindi mi ha subito attirato l'idea e quindi appena ho voluto provare queste... Sì, perché hai ragione, tutto il tema fantascienza, dicevo, quelle cose che hai citato sono proprio i romanzi di formazione di Elon Musk. Lui cita sempre il suo preferito, che non so come si traduce in italiano, è l'autostop nell'universo, una roba simile. Dopo lo vado a cercare, magari lo metto nelle note e te lo dico. Ecco, è un po' vedere un mondo che allora si leggeva su questi romanzi, vederlo realizzare. E quindi, perché davvero tanta parte di quello che stiamo vivendo tecnologicamente, anche con i vari occhialoni, realtà aumentata e quantata, intelligenza artificiale, è quello che allora si leggeva. Ma è anche vero che molti sviluppatori hanno preso ispirazione anche da queste cose, no? Quindi la sensazione deve essere bella, cioè da bambino le leggevi queste avventure e poi le vedi. E adesso sì, adesso c'è questa possibilità che mi ha subito attirato. Pensa che per me internet, io mi ricordo che da piccolo, comunque anche io a una certa età, c'era questo cartone animato di un bambino che disegnava le cose e poi diventavano reali. Ecco, per me quando arrivò internet fu un po' quella roba lì, cioè l'avverarsi di questa cosa, che tu disegni, immagini una cosa e diventa subito reale. Quindi c'è sempre una connessione con delle cose che abbiamo vissuto da bambini. Ecco, hai provato questi strumenti che ci sono circa da un anno, perché c'è il GPT, la gratuita 3.5, è arrivata nel novembre, dicembre del 2022, adesso siamo al 2 di febbraio 2024. Quando è che ti sei un po' avvicinato da subito o hai aspettato un pochino? No, forse ho aspettato, non proprio da subito a subito, ho aspettato magari un pochino, ma forse non nel senso che ho aspettato, ma nel senso che non mi era avvicinato subito. Ma ti devo dire questo, nel mio campo, nel mio campo, giuridico, devi pensare che il primo grande salto in avanti avvenne negli anni 90, inizio degli anni 90, quando cominciarono a diffondersi le banche dati giuridiche. E quello, io entrai subito in quello, perché comprai subito, mi ricordo che allora... Ipsoa c'era, no? C'era Ipsoa, no, ma c'erano anche le grandi riviste, che poi sono morte, diciamo, del Foro Italiano, della giurisprudenza italiana, altre, che iniziarono a fare le loro banche dati. Quindi a raccogliere in digitale, quindi su CD, le massime e sentenze delle varie corti. Tu pensi che quando io studiavo e ho dato, e mi sono laureato, si andava avanti con i libroni, con i massimari, i libroni, eccetera, eccetera. Quindi quello fu un grande salto in avanti. Però io già conoscevo, già usavo il computer, già usavo... E quindi la banca dati, subito, ebbe su di me una forte attrazione. Però cosa è successo nel tempo? Nel tempo è successo, ormai da diversi anni, che il concetto stesso di banca dati è stato superato per vari motivi. Il primo è che la legislazione, insieme al mondo, bisogna dire la verità, si evolve molto rapidamente. Nel tempo le banche dati e anche tutta l'editoria giuridica, parlo del mio campo ovviamente, probabilmente varrà anche in altri campi, ma sicuramente nel mio campo l'editoria giuridica ha subito una forte, forti cambiamenti, nel senso che proprio per questi cambiamenti molto veloci non si riesce a star dietro a quello che succede. Quindi, per esempio, mentre vent'anni fa, trent'anni fa, in diritto si riuscivano a scrivere dei libri monografici, i professori di una volta scrivevano delle monografie, molto approfondite, molto approfondite, lavori che duravano magari degli anni, su un tema verticale. Questo tipo di lavoro è sostanzialmente scomparso, perché gli editori hanno bisogno di inseguire tutto ciò che accade mentre accade, e quindi tutta la parte approfondimento è un po' sparita. Questo però, non solo è successo questo, ma cosa ha provocato? Ha provocato anche il fatto che la banca dati, così com'è, è stata poi superata, attenzione, da Google. Quindi questo circa da una ventina d'anni, dall'inizio degli anni. No, questo di Google, è un lavoro, è una cosa che faccio ormai da 5, 6, 7 anni. Ah, poco. Non tutto subito, però, diciamo, c'è stata prima la carta, poi le edizioni digitali, quindi vari CD, poi è venuta la Giuffre, poi è venuta varie case editrici importanti, però poi a un certo punto, loro non si sono poi evoluti, perché le banche dati, anche quelle di oggi, continuano a funzionare con quelli che conosciamo come operatori logici classici. And or not. Roba ormai. Obsoletta. Direttamente superata. Tant'è vero che ora come ora, prima di, diciamo, dell'intelligenza artificiale, io le ricerche le ho cominciate, ho cominciato a usare Google, il motore di ricerca. Mettendo delle parole adeguate, magari cambiando il tipo di ricerca, nonostante il grande rumore che genera il motore di ricerca. E tanti falsi risultati, diciamo. Molte cose, molte cose, in realtà molte cose si trovano, soprattutto quelle, anche quelle receni, riesci a recuperarle. e quindi praticamente si è invertito il lavoro, per cui in genere, ora come ora, io magari parto da Google, o meglio, prima dell'intelligenza artificiale, poi adesso spero, ne parliamo tra poco. Certo, certo. Io, quindi cosa fai? Parto da Google, magari trovo, poi dopo vado sulla banca dati per avere le conferme, perché le banche dati hanno, insomma, il marchio dell'ufficialità, quindi sei sicuro che la sentenza sia quella, sei sicuro che... Anche a livello di fonti. che la legge sia quella, eccetera, eccetera. L'intelligenza artificiale potrebbe fare veramente delle cose meravigliose da questo punto di vista. Mi stupisce, ecco, ma mi stupisce, manco tanto, adesso penso che poi si adegueranno, io penso che i grandi editori di banche dati dovranno, secondo me, inserire l'intelligenza artificiale nel loro prodotto, perché questo aiuterebbe moltissimo nel recupero del materiale con attenzione, questo è un fattore importante secondo me, anche con, però, la garanzia della, come dire, della validità del timbro, di quello, di quello, di quello, del risultato che trovi. E qui, se vuoi, ci possiamo attaccare al discorso che ti avevo, di quel commento che ti avevo fatto. Però prima, guarda, caso vuole, che giusto un paio di settimane fa con due carissimi amici ero a pranzo, lavorano proprio nel settore di cui ci hai parlato, quindi quello storico che poteva essere allora delle banche dati e quant'altro e tutte le evoluzioni, eccetera, eccetera, e gli dicevo, insomma, mi immagino che ci sia gran fermento per l'intelligenza artificiale e mi raccontavano di una difficoltà interna, perché poi negli anni sono diventate strutture molto, molto grandi per andarle a implementare. Quindi in questo io di nuovo dico a chi ci ascolta, vedete, ci sono tante finestre di opportunità, perché se tu ti specializzi in una cosa del genere, puoi dare una consulenza anche a un'azienda molto strutturata e molto grande su come andare a implementare, perché al momento si trovano davvero tanto spiazzati. e secondo me la verità è che come dico sempre l'intelligenza artificiale è un grande livellatore di età, sia valido per i più giovani e sia per le persone di una certa età, perché tutti con questi strumenti possono dare un output e un prodotto di qualità, una consulenza, vendere un servizio e quant'altro, che prescinde dall'età. Cioè, secondo me, ha un valore davvero significativo anche in questo senso. è chiaro, uno in sedici anni non può dare una consulenza giuridica a un'istituzione, ma non è detto che debba essere quello che una volta sarebbe stato il giurista che ci immaginiamo tutti con i capelli bianchi e che scriveva il codice civile per capirci o lo compilava. Ecco, dimmi, c'è anche un altro, tu dicevi, c'è l'azzeramento anche dell'età, ma c'è anche un altro fenomeno secondo me che può essere interessante e che è questo. Il grande, mia considerazione, il grande aumento delle informazioni disponibili permette anche a persone non specializzate di specializzarsi in un tempo relativamente breve e questo accorcia la distanza, adesso parlo del mio campo, tu fai conto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto però io ti faccio un esempio relativo al mio, diciamo, il mio più stretto, allora fai conto che ci possono essere degli studi che magari sono specializzati che ne sono nella materia di appalti, nel senso che loro sono, sanno tutto di quel settore e lo seguono giorno per tutto. Certo. Benissimo. Ovviamente chi non ha questo tipo di specializzazione non può entrare in competizione perché, come dire, non aveva il materiale e la possibilità, la velocità di potersi adeguare e quindi competere. quindi, ma ora, secondo me, con l'intelligenza artificiale, la vera capacità e quindi anche dal punto di vista professionale, diventerà nel saper navigare sulle informazioni. Non tanto, quindi, la quantità di informazioni che hai a disposizione, ma la capacità di trovarle e utilizzarle. Assolutamente. io dico sempre non abbiate paura che il vostro lavoro sarà rubato dall'intelligenza artificiale, ma il mio slogan è sarà rubato da qualcuno che la conosce. Questo potrebbe accadere, però già il fatto di essere qui, ad esempio, ad ascoltare questa conversazione, parlo appunto a chi ci ascolta, ci dà un vantaggio competitivo perché veramente la stragrande maggioranza della popolazione è ancora molto indietro in questo senso e non si sta ancora proponendo il problema, secondo me. E quindi, in questo senso, come dice anche Giorgio, ci sono delle nicchie dove si può raggiungere una specializzazione e quindi andare poi a fornire dei servizi e quant'altro. Tra l'altro, in ambito giuridico, in modo molto banale, parlo proprio della vita di tutti i giorni, ma senza voler togliere lavoro ai tuoi colleghi, è chiaro che se tu hai la lettera che una volta l'amministrazione con dominio o in una separazione o in una cosa, uno strumento come c'è il GPT o usato nel modo opportuno, può compilarti una lettera che una volta ti avrebbe compilato l'avvocato per rispondere o cose simili. Questo non vuol dire andare a sostituire delle figure, però è uno strumento che diventa la portata di tutti, anche di noi come cittadini, nella quotidianità. Ed è vero, ti cito un caso, c'è un influencer, va bene, adesso YouTube è quello che è, che aveva un caso fiscale molto molto complesso perché ha trasferito la sua residenza a Porto Rico, vantaggi, non vantaggi, fiscali e compagnia e per trasferire poi tutti gli asset e le cose, insomma, una situazione complicata. Prova con l'avvocato, parliamo degli Stati Uniti, quello da 5.000 euro, dollari l'ora, un parere completamente cannato, un altro da 5.000 all'ora, quindi non proprio studi da 4 soldi, di nuovo parere completamente cannato, dice vado da quello a 50.000, illuminare quello che impone le mani e per la modica cifra di 50.000 euro l'ora, dollari, ti dà il suo parere, compila il parere, per fare la prova lui ributta dentro tutti i dati con un po' di know-how nell'intelligenza artificiale totale, ha dato la stessa risposta che aveva dato quello da 50.000, la stessa risposta per un complesso caso di residenza fiscale, asset e quant'altro. Allora, non sto dicendo a chi ci ascolta di fare così, però, secondo me, anche i professionisti devono dotarsi di questi strumenti per non essere poi passati a destra da, cioè, i loro pareri alla fine possono essere ancora più validi, ancora più se filtrati adeguatamente, se utilizzati, eccetera, eccetera, ancora più, se vuoi, autorevoli, perché in questo c'è una grossa opportunità. Non so se sei d'accordo, cioè anche nella professione la tua, come quella dei commercialisti. Secondo me, allora, in prospettiva, sicuramente, è così. Il prodotto, ovviamente, deve crescere, ora, secondo me, deve crescere molto a causa di quello che, insomma, che tu sai perché io ti ho mandato un paio di casi, perché comunque io, mentre lavoro, tutti i giorni butto qualche domanda all'uno e all'altro, cioè, adesso quei due che uso io. Ecco, tu dico Pilot, il gratuito e Bard. E Bard, tutte e tutte. Tra l'altro, mi è apparso, deve essere Bard, deve essere stato aggiornato anche a Gemini. Chi era l'altro? È stato aggiornato, infatti è da riprovare, perché era rimasto un po' al palo, ma è stato aggiornato. Era rimasto un po' indietro, adesso c'è questo Gemini, però che prima funzionava, in realtà prima funzionava, almeno lui diceva, che funzionava se facevi le domande in inglese. Certo, adesso è arrivato anche in Italia, anzi, chi ci ha ascoltato, anche l'italiano è supportato, visto, quindi io provo sempre. Ora, ti dico subito, secondo me, qual è la difficoltà che possono avere queste intelligenze artificiali? No, aspetta, prima di arrivare a questo, Giorgio, perdonami, concludiamo il discorso, cioè, l'avvocato da parcelle stellari e compagnia, vedrà il suo lavoro minacciato o migliorato dal utilizzo di questi strumenti? Allora, secondo me, l'intelligenza artificiale serve da potenzia, potenzia le abilità di chiunque le voglia e impari a utilizzarle. Quindi, il luminare diventerà ancora più luminare utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, come, diciamo così, vent'anni fa, sicuramente era avvantaggiato l'avvocato che aveva a disposizione le banche dati piuttosto che i vecchi limroni. Quando sono arrivate le banche dati, il passo in avanti era sicuramente averle. Certo. Perché aiutavano moltissimo nella ricerca rispetto al sistema precedente. L'intelligenza artificiale farà esattamente la stessa cosa, quindi sarà sicuramente un, come dire, un amplificatore delle proprie capacità e potenzialità. Quindi, da quel punto di vista, io non ho dubbio. Bisogna vedere in che tempi è poco. Torniamo a noi. Allora, utilizzi pratici. Tu, quando hai provato a usarla, questa cosa dei famosi prompt, cioè saper contestualizzare, faccio l'esempio stupido, io ad esempio i miei figli quando fanno i compiti dico usatela perché non per copiare ma perché è uno strumento che dovrete sapere imparare a usare, però ditegli la risposta dammela per un ragazzo che fa la terza liceo, la prima liceo, quello che è, cioè contestualizzala. Perché se tu gli chiedi la legge della fisica te la può spiegare come fossi un ingegnere di professionista o come fossi un bambino dell'elementare. Quindi se tu contestualizzi lui è aiutato a darti la risposta. Molto spesso c'è ancora un utilizzo molto base che non contestualizza banalmente nelle traduzioni uno mette dentro il testo e dice traduci. Se io invece gli dico sei un esperto di diritto con vent'anni di esperienza che conosce anche l'inglese, lo spagnolo e l'italiano adesso fammi una traduzione tenendo conto di tutto questo l'output che ti esce è già un qualcosa più focalizzato. Tu hai contestualizzato o la usavi un po'? Allora io ho fatto sicuramente sempre e faccio sempre domande diciamo circostanziate. Ok. Non faccio generiche perché anche nei casi che ti ho fatto vedere erano domande precise. Non è che... No, però a lui il ruolo di chi è e a chi risponde lo dai? Cioè dirgli sei un avvocato? Sì, qualche volta ho scritto solo un avvocato qua e là oppure io l'ho detto dopo quando lui mi diceva delle cose e gli ho detto guarda che io sono avvocato quindi devo stare a... No, ma... Allora io ho fatto pensavo penso che appunto facendo delle domande precise, circostanziate indicando i termini esattamente cercando di indirizzare per non essere troppo generici perché tu non puoi fare indiritto non potresti fare una domanda puoi chiedere anche non so che la propria mi dà la proprietà e allora lui dice quello che vuole però quando tu presi io l'ho usato con riferimento a casi specifici quindi già la cosa era molto come dire circostanziata sì sì poi comunque diciamo che io in genere attualmente con loro uso una tecnica diciamo di approfondimento progressivo se vedo che lui lui mi dà un certo tipo di risposta allora gli dico no spiegami un po' meglio andiamo vediamo un po' meglio questo fatto quindi pian piano cerco di andare dove mi serve nel mio campo forse è più facile perché appunto io so quello che voglio e quindi cerco di indirizzarlo dove voglio dove voglio risultare ecco in questo senso Giorgio ti dico che queste famose GPT personalizzate le custom GPT quelle che tu ti crei al bisogno lì hai un grosso vantaggio per ora ci sono solo una versione a pagamento di sia di copilot nella pro anche se sono ancora in beta sia di chat GPT però lì come ho fatto io con la mia che utilizzo tanto per lavorare non solo gli insegni un blocco di cose nel mio caso tutti gli iscritti video e quant'altro ma tutto quello che di volta in volta conversazione per conversazione gli insegni e vai affinando rimane nello storico invece credo che con quelle gratuite ci sia purtroppo il problema che tu ogni volta che inizi una conversazione o ti ricolleghi il giorno dopo un pochino riparti da zero è una cosa secondo me temporanea che passerà però in questo senso potrebbe essere utile nel tuo caso non so se lo fai ed è una domanda proseguire le conversazioni il giorno prima invece di iniziare allora mi pare allo stato loro le conservano per un certo periodo ok non in eterno c'è scritto che adesso non mi ricordo quanto però per un certo periodo le conservo quindi io posso andare tranquillamente avanti su quello che e questo è un elemento molto importante perché se resetti devi ripartire da zero con tutto quindi quella cosa teniamola presente cioè se voi iniziate una nuova chat da zero dovete rinsegnargli ricontestualizzare il tutto e lui tra virgolette si dimentica tutto quello che aveva detto infatti e di nuovo nella CIOGPT a pagamento c'è adesso una funzione di archiviazione con cui tu le puoi salvare tenerle lì ad esempio io ne ho una per le traduzioni e vado sempre in quella lì e quando traduco proseguo non gli devo rispiegare che sto facendo una traduzione legata ad investimenti trading e finanza perché lo sa già per quanto riguarda che ne so gli articoli che scrivo spunti e quant'altro ne ho un'altra già ottimizzata eccetera eccetera quindi il consiglio è un pochino anche quello lì e poi ovviamente Giorgio per utilizzi professionali può ancora oggi valer la pena di provare quelle a pagamento perché perché per esempio sempre con le GPT personalizzate in inglese per ora ce ne sono tante già dedicate alla legge al diritto che ti danno modo di non partire da zero soprattutto nel contestualizzare e quant'altro ora probabilmente sono ancora molto americane quindi saranno molto centrate sul diritto statunitense e quant'altro e quindi probabilmente l'utilizzo che possiamo fare noi è limitato potrebbe avere interesse chi fa diritto internazionale o chi fa diritto commerciale a livello diciamo anche extraterritoriale trade a livello fiscale sempre al cosiddetto avvocato da fare perché quello è già internazionale è già globalizzato quindi diciamo perché poi sai se no per il resto capisci bene che il diritto non è una materia molto esportabile nel senso che il diritto italiano è il diritto italiano e quindi anche fare domande di diritto italiano in inglese non so ha senso no 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 infatti no no infatti l'utilizzo no ti dicevo l'utilizzo è limitato per noi però lì c'è un'opportunità perché qualcuno potrebbe mettersi ad addestrare allora sì con banche dati e quant'altro una GPT sul tema diritto italiano e poi andare poi nello specifico trovare una nicchia e quant'altro e lì trovare sicuramente un certo pubblico quindi invito magari le persone più giovani e quant'altro ad esplorare anche queste possibilità perché poi prego no scusa no no ti dico guarda io mi pronoto semmai mi faccio dare da te delle lezioni per capire per capire come magari con la versione a pagamento come addestrare certo nel senso come fare a creare come dire è come farsi io la immagino così è come può farsi un libro a parte su in questo mondo di intelligenza artificiale vale a dire potrebbe venirmi l'idea ma mettiamo insieme tutto quello che so che ne so in materia di condominio per dire una cosa allora mi pare di aver capito che lì si possa fare come dire io prendo i vari libri che ho faccio una mia sintesi in qualche modo riesco a cacciarli da dentro e te lo dico io mi sono fatto il mio libro non solo ma nell'addestrarla gli dici anche il tono di voce cosa dire cosa non dire cioè ci sono tante però lo fai dialogando e gli dici tu quindi devi rispondere alle cose in questo modo eccetera eccetera e via via gli aggiungi conoscenza tieni conto che poi la maggior parte dei libri sono già presenti nella memoria quindi gli puoi dire nella tua famosa knowledge base cioè nella tua conoscenza base prendimi questi quattro libri che ne so di diritto commerciale di diritto privato eccetera eccetera molto probabilmente li ha già ma ecco perché scusa secondo me cioè molta e qui viene secondo me la parte dove insomma l'intelligenza artificiale mi ha un po' di riuscire molta del nostro materiale secondo me è a pagamento quindi io mi domando come fa l'intelligenza artificiale a procurarsi quelle informazioni perché secondo me nel mio caso negli errori che ho visto eccetera eccetera alcuni dipendono dal fatto che lui non ha mentre io ho le banche dati io ho le banche dati e quelle le banche dati loro non le hanno certo secondo me loro non possono entrare lì dentro no assolutamente o meglio se loro potessero avere a disposizione il materiale che c'è dentro la banca dati e beh allora penso che no guarda nell'addestrare infatti è un tema con OpenAI che è l'azienda di CiaGPT che loro cosa hanno fatto prima hanno buttato dentro tutto e di tutto e di più fregandosene tra virgolette in senso buono del copyright tant'è che poi ed è il tema di questo periodo in tanti come per esempio il New York Times o compagnia hanno detto no non puoi più usare tutti i nostri articoli e lì loro stanno chiudendo accordi con tanti publisher dove gli pagano una fee per avere possibilità di alimentarsi con i contenuti quindi siamo un pochino in questa fase cioè dove OpenAI sta stringendo accordi con tanti fornitori faccio sempre l'esempio delle notizie perché è venuta fuori proprio la notizia di questo accordo si può attingere faccio l'esempio database di tutti gli articoli di tutta la storia del New York Times pagando una fee con un accordo e quindi vengono citati eccetera eccetera sì stiamo passando da una fase di passami il termine pirateria o quasi nell'alimentare la conoscenza base ad una fase dove accordi permettono a OpenAI in questo caso di andarsi ad alimentare tant'è ieri per esempio sono usciti i dati i risultati di bilancio di meta che ha fatto questo super record grandi risultati eccetera e Zuckerberg ha detto che secondo lui la banca dati che c'è dentro Facebook Instagram Whatsapp insomma tutti i social di meta è così grande potrebbe superare in valore eccetera una banca dati per addestrare intelligenza artificiale che è addirittura più grande di quella di Google questo è stata la sua dichiarazione e non lo sappiamo però lì c'è la forza cioè nella fase 2 quando non puoi più andare a prendere tutto quello che c'è sul web in maniera indiscriminata come avvenuto fino a pochissimo tempo fa adesso la forza sarà in chi ha effettivamente le banche dati ecco c'è da dire una cosa però in realtà secondo me allora per esempio le sentenze della Corte di Cassazione sono nel sito proprio della Corte di Cassazione quelle dovrebbero essere sono libere perché le sentenze sono pubbliche quindi lì dovrebbe poter andare certo poi quindi ci sono alcune alcune diciamo alcuni siti dove potremmo andare anche la stessa giustizia amministrativa c'è il sito della giustizia amministrativa quello dei vari tribunali amministrativi regionali e anche del Consiglio di Stato che sono raggiungibili forse ci vuole registrazione non lo so quindi non so sì vabbè comunque sono dati non so se l'intelligenza sono pubbliche però non so come fare l'intelligenza artificiale a scavalcare il fatto di doverti registrare sì vabbè io gli faccio la domanda quindi non lo so quello lì è una cosa poi c'è una però c'è un'altra adesso pensavo al discorso del copyright giustamente che è un discorso valido però io penso se se io voglio farmi un libro mio questo non esclude che io possa leggere i libri degli altri cioè quello che è vietato è che io è vietato il plagio cioè anche il discorso del 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 Wall Street Journal cioè un conto un conto è l'intelligenza artificiale prende l'articolo e me lo spara lì identico ma se io come perché io posso io divento a un certo punto posso diventare autore vale a dire è come andare in biblioteca prendo tutti i libri che ci sono su una certa materia poi li compongo a modo mio come piace a me come non la prese di Laura ho fatto un'altra opera perché non è più devo citare la fonte quindi numerino nota però come si fa negli studi come si fa quando fai la tesi della laurea o quando fai degli studi o quando fai degli articoli ovviamente metti la bibliografia se l'idea non era tua giustamente devi dire che non era tua ma se tu scrivi a modo tuo quindi non copiando incollando ma se tu rielabori il prodotto diciamo che è tuo totalmente ma infatti se hai notato già in copilot bard e compagnia e questo lo differenzia da open AI cioè GPT che si sta adeguando tutto quello che esce bene o male alla noticina con la fonte non so se hai notato quindi questo è già il primo passo avanti verso la risoluzione di questo problema cioè applicano quello che dice ah ecco ti devo dire che copilot da questo punto di vista è un po' diciamo tignoso nel senso quando l'ho interrogato come hai detto tu giustamente lui mette nelle note le fonti no? sì allora io ho detto a copilot senti oltre a questi siti che tu guardi vai a vedere anche in questi altri perché io li conosco i siti certo che frequento e lui ha detto di no non ci va ah certo ma ha detto di no perché dice perché io non posso essere sicuro che siano attendibili ok non ho questa però ti chiedo una cosa e lo dico anche alle persone che ci seguono sai i vari modi il creativo e compagnia forse per le tue ricerche l'avevo scritto da qualche parte in questi giorni dopo che ci eravamo parlati può valere la pena usare il modo preciso non so se hai provato certamente sì tu l'hai detto io ho provato comunque sì come è andata allora il preciso ha questa differenza in realtà preciso forse loro lo intendono sintetico mi ha scritto delle cose più ridotte del creativo ok ma ma non migliori ok non 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 migliori quindi secondo me non cambia da quel punto di vista lì non cambia anche perché sì adesso la parola creativo ti fa venire in mente delle cose ma nel mio campo non è che non è che non è che no 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 il creativo è il modo per usare la quattro esatto no il preciso di diverso è che ha l'accesso al web lo fa tramite il motore di ricerca bing che non è google notoriamente quindi un pochino più scadente però il preciso ha la differenza che se tu guardi quando gli fai la domandina lui gira e dice faccio una ricerca sul web e vado a vedere quindi la differenza sostanziale dovrebbe essere quella lì invece scusa copilot non va sul web no no copilot in modo preciso sto dicendo no ma copilot creativo non va sul web sul creativo diciamo che fa più riferimento alla sua conoscenza base quindi a quello che gli hanno buttato dentro allora però io quando faccio copilot e vi faccio la ricerca col creativo intanto appare bing e poi mi appare comunque bing e poi ha questa mania che a me non piace non piace per niente dice sono bing e a me non me ne frega niente certo devo dirti la verità quindi io quello gli direi di toglierlo perché non me ne frega niente ti ho fatto una domanda io voglio che rispondi alla domanda comunque detto questo però da questo ho capito che lì funziona bing si guarda resta da provare secondo me bard nuova versione che secondo me avendo accesso poi alla conoscenza google può davvero dare un salto avanti che speriamo anche per google che avvenga perché ripeto negli ultimi mesi è rimasta un pochino indietro ti faccio invece un'altra domanda più generica poi magari ci sentiamo fuori onda e ci mettiamo d'accordo per provare quella pro visto che ecco non ti è mai preso una specie di scoramento di dire vabbè è tutta una scemenza perché io noto molte persone fanno la domandina ha risposto male e dico alle persone che mi seguono non fermatevi mai davanti a questa cosa perché questi sono come degli assistenti e quindi l'assistente se tu hai la prima domanda che risponde sbagliato gli dici vedi sei stupido si deprime non fa più niente va aiutato no guarda si fa così riprova va un po' sostenuto come un figlio adolescente dico io e quindi ti chiedo Giorgio tu la frustrazione o la presunzione mi viene da dire senza voler offendere nessuno gli dire ah ha detto una scemenza lascio perdere vedi che non funziona ce l'hai mai avuta o uno scoramento di dire vabbè è troppo complesso ti è mai venuto no io no ma adesso non so se dipende da come sono fatto io beh sicuro no nel senso che intanto io capisco la potenzialità di quello che ho davanti poi capisco che adesso io non so quale sia la grande differenza nel discorso pagamento poi io capisco che essendo all'inizio essendo gratis che ci c'è insomma c'è ancora molto da investire molto da fare quindi io capisco che all'inizio non si possa pretendere quello che io speravo era di avere come dire un miglioramento di quello che già io facevo con google dico se loro potendo guardare anche il web però capendo capendo tra virgolette un po' di più la mia domanda mi riescono a togliere un po' di rumore e quindi mi danno quello che mi serve un po' scremato e beh quello per me comunque sarebbe cioè sarei già bello contento indipendentemente da tutte le altre evoluzioni poi io te l'ho detto ci sono dei problemini sì sì no sicuramente ma se vuoi poi ne parliamo perché sono secondo me sono cose importanti perché allora io sono avvocato e quindi diciamo così sono capace anche di difendermi dalle informazioni sbagliate certo perché poi ho i mezzi per fare la verifica e quindi mi accorgo se ci sono degli errori viceversa se una persona cioè capisci chiedere all'intelligenza fare all'intelligenza ora come ora fare all'intelligenza artificiale domande di diritto certo può avere dei pericoli perché e dove è il pericolo secondo me domande di diritto da uno che non è un professionista da uno che non è professionista e che quindi non può diciamo così non ha i mezzi a disposizione per fare delle diritte così come in campo medico perché viene usata tanto anche quello lì uno può provare perché io ad esempio ho provato a buttare dentro delle analisi per vedere rispetto alla diagnosi del medico quando ti arriva al tabulato lo butti dentro e vedi cosa ti dice e devo dire funziona anche bene però è da prendere tutto con beneficio di inventario e soprattutto usare sempre tanto granusali specialmente se non siamo dei professionisti quindi dicevo il pericolo dov'è primo l'intelligenza artificiale un minimo di intelligenza lo è quindi quando lui risponde fa un discorso ok nel mio caso in alcuni casi che io ho provato lui sia Bard che Copilot mi hanno indicato delle leggi che ci sono ma ad esempio hanno inventato tutti e due quindi il colpo del U come è tutte e due mi hanno inventato delle norme che non ci sono scrivendomi la norma oppure mi hanno citato delle sentenze mettendomi tra virgolette il testo di una massima che poi non esiste cioè proprio non esiste questi sono i casi che sono chiamati di allucinazione dell'intelligenza artificiale e non solo ma messi davanti al fatto io ti ho mandato la chat che ci siamo fatti messi davanti al fatto allora Copilot non ammette non gli piace proprio ammettere l'errore addirittura nella cosa che ti ho mandato ha messo in discussione io ho detto guarda che la legge ce l'ho anch'io ce l'ho sulla mia banca dati io ho citato anche la banca dati e quello che dici tu non c'è allora Copilot ha detto ma potrebbe esserci un errore nella banca dati la mia sì capisci allora dico va bene ragazzi insomma no Bard invece è più remissivo perché se poi lo metti alle corde poi lui ti dice ma sì in effetti ho sbagliato cioè dopo un po' quindi diciamo che per una persona che non è professionista della materia può risultare insidioso pericoloso perché perché ti convinci magari di cose che ci sono certo certo assolutamente io però Giorgio e per concludere la nostra conversazione prenderei te un pochino come esempio perché è molto bello spinto da una passione come ci hai raccontato eccetera il fatto che tu ti voglia confrontare con questi strumenti non ti arrendi alla prima cosa non banale perché anche lì c'è una grossa scrematura un grosso filtro e soprattutto continui a provare continui a contestualizzare continui a sfidare ma in senso positivo accorgendoti poi delle diverse sfumature come hai detto Bard ad esempio più remissivo co-pilot un po' più testardo ma questo poi accade anche con le persone se ci pensi perché tu puoi avere l'assistente che è un pochino più testardo e pensa sempre avere ragione lui e quello che invece ammette l'errore dice sì ho sbagliato e quant'altro quindi l'esempio scusa se vuoi mi faccio ridere allora poi quando co-pilot mi ha detto che lui le mie banche dati ma io ho detto non devi guardare io gli ho detto non ti ho detto di guardare solo quelle che ti ho detto io ma ti ho detto insieme alle tue guarda un attimo anche le mie che secondo me sono buone allora si è rifiutato allora poi c'è cosa ho fatto allora sono andato su Bard e ho detto e io ho detto a Bard sai Bard che il tuo collega co-pilot gli ho chiesto di guardare e lui si è rifiutato di guardarli allora lui mi ha risposto diplomaticamente mi ha detto ma sai siamo due modelli linguistici molto avanzati però come dire ognuno è fatto è fatto un po' al suo modo può darsi può darsi che co-pilot sia un po' più assertivo di me mi ha detto proprio così mi ha scritto proprio così beh meraviglioso però è di nuovo mi piace giocarci anche no ma è bello è lì che si esplorano i confini tra l'altro sei arrivato ad esplorare i confini a tal punto non solo le famose allucinazioni di cui ci hai parlato che l'intelligenza artificiale soffre e un professionista può riconosce o una persona specializzata in un campo e altri no quindi attenzione a quello che esce ma e soprattutto sei arrivato anche al limite fisico dove a un certo punto si sono chiuse e hanno detto basta di questa roba non parlo più e resettano tutto cosa ti è successo raccontaci un pochino no e dice che no sia Bard no poi no Bard a un certo punto ammette dice guarda si è vero anzi addirittura poi a un certo punto gli ha scritto senti Bard allo Stato secondo me sei una cipa libera e allora lui e lui mi ha risposto si è vero allo Stato sono una cipa libera però come dire però sto migliorando però cerco di migliorare e mi sforzerò di migliorare quindi mi ha detto quello no poi messo all'angolo quando arrivi alla fine eccetera boh lui ammette Bard ammette di avere che non lo sa oltretutto io a un certo punto ho scritto esplicitamente io ho detto guarda se non lo sai di semplicemente che non lo sai certo io non è che come si farebbe con un assistente poi no perché sì 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 no io li tratto hai visto che ti ho detto quella cosa là io li parlo come se fosse una persona invece co-pilot cosa ha fatto a un certo punto ti ha chiuso co-pilot 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 invece niente con lui continuava a ripetere che potrebbe essere c'è un errore nella mia banca dati oppure poi è arrivato a dire non riesco a capire mi ha scritto non riesco a capire come mai non ci siano queste informazioni cioè quei testi legislativi che non ci sono certo non ci sono perché poi io ho chiesto ma scusa ma dove li hai presi e lui mi ha detto ma l'ho presi adesso è una questione della regione Piemonte mi ha detto l'ho presi nella regione Piemonte e allora gli ho scritto ma guarda che io sono andato lì dove mi hai detto tu e il testo non è come dici tu certo niente lì non c'è stato verso e poi a un certo punto ti ha dato la chat no? no poi è finita basta ah ok non risponde no perché poi rimaneva bloccato lì rimaneva sulle posizioni certo certo no bene comunque io direi che tu sei davvero un esempio per chi ci ascolta poi ognuno se lo può applicare al suo settore e al suo campo però di continuare ad avere quella curiosità e anche quell'entusiasmo mi viene da dire Giorgio di provare riprovare testare quant'altro tu mi dicevi ok una passione giovanile poi che hai portato avanti banche date eccetera eccetera ma e voglio concludere con questa cosa ti senti un pochino mi viene da dire ringiovanito nell'entusiasmo cioè il fatto di voler provare questo strumento di volerlo almeno nel mio caso devo dirti mi ha dato una sorta di motore di entusiasmo che trovo a volte euforico quasi non so se hai provato la stessa cosa ma potrei dire che non sono mai invecchiato eh ma non è male non sono mai invecchiato nel senso che io mi sento insomma ormai ho 63 anni sì vabbè però no dicevo la verità non sono più un ragazzo però dentro sì sono ancora un ragazzo no no ma secondo me la cosa bella ancora mi entusiasmo mi piace ho passione quindi non la roba lì ha sempre fatto parte di te diciamo ecco io sì certo mi guardo allo specchio perché non è più le cose sono cambiate ma dentro no no ma poi devo dire che Giorgio i 60 anni di oggi non sono quelli ma neanche di 10-20 anni fa cioè secondo me veramente e su quello poi io ho fatto tutto il discorso e faccio il discorso sulla longevità perché abbiamo tutta una serie di opportunità che veramente anche solo 20 anni fa non c'erano e anche a livello di conoscenza perché utilizzare questi strumenti io continuo a ripeterlo secondo me è un grande omogenizzatore di possibilità che prescindono proprio dall'età e tra l'altro e chiudo su questo sia e lo ripeto per i troppo giovani che poi non vengono presi sul serio o per le persone un po' più avanti con gli anni tu forse lo sai oggi mettere l'età nel curriculum non è più necessario è una data di nascita perché c'è una legge europea contro la discriminazione per cui è un po' come il sesso sai che adesso puoi mettere maschio o femmina o preferisco non rispondere stessa cosa con l'età quindi mi raccomando lo dico sempre alle persone che mi seguono non fatelo sia in un senso sia nell'altro e soprattutto qui in Spagna addirittura adesso sono a Madrid appunto l'altro giorno guardavo la tele si inizia a parlare di edadismo che sarebbe un po' come il maschilismo il femminismo cioè l'edadismo cioè un movimento contro la discriminazione in base all'età che è una cosa che io trovo molto giusta sinceramente perché perché una volta Giorgio parliamoci chiaro uno arrivava a 60 anni e insomma a parte professioni in particolare era un po' da buttare via eravamo un po' tutti i calciatori no perché la realità l'alimentazione l'esercizio fisico sono tutte cose che cioè dipende assolutamente però abbiamo anche strumenti come questo dell'intelligenza artificiale che ci aiutano ad avere una trasversalità della conoscenza che va oltre l'età secondo me non so se tu sei d'accordo sì no questo 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 sicuramente poi vabbè ci sarebbe non voglio parliamo a tempo su questo ci sarebbe un bel discorso da fare anche su quello che dicevi cioè su questi su questa abitudine diciamo moda o atteggiamento che c'è oggi molto di essere scendi di fare non è ben intesa secondo me questo concetto della discriminazione perché il discorso dell'età uno discrimina secondo l'età è un discorso che come dire col buon senso di una volta non si poneva voglio dire la persona è quel che è tu devi essere capace di valutarla quando la incontri non ho perché devo avere dei pregiudizi cioè io adesso io e te ci siamo conosciuti così quindi però non è che mi sono fatto un'idea certo no l'idea me la faccio mentre parliamo ma a volte può esserci anche col più giovane guarda prima di te e tra le interviste che sto pubblicando in questi giorni c'era un ragazzo molto giovane lui mi dice do delle consulenze anche ad aziende quant'altro sulle prime chiamate non accendo la webcam di modo che dalla voce non abbiano quel pregiudizio Dio è troppo giovane non va bene per sto mestiere perché lui dice alcuni si entusiasmano è un lavoro tecnologico che bello è giovane sa tutto andiamo con lui in futuro e altri dicono chi è sto ragazzino allora lui non accende la webcam quindi vedi che c'è una discriminazione che funziona in tutti i sensi no no che può capitare che possa capitare sì poi dico persone che vabbè mi sembra esagerato però sì 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 no comunque vabbè io ripeto ed è un invito per chi ci ascolta a utilizzare questi strumenti che sono strumenti che se non ci rimettono in gioco ci mantengono in gioco ecco mettiamola così e accanto a questi ci sono le tematiche alimentazione e tutto quello che concerne sport e quant'altro però è sicuro che secondo me e ne sono assolutamente convinto viviamo in un'era dove abbiamo veramente delle possibilità e tu ne sei la prova perché l'entusiasmo con cui ti sei messo ci siamo sentiti anche adesso ci hai descritto tutte le prove insomma è un entusiasmo che tu avrai un po' nel DNA però è un qualcosa che una volta non era proprio delle persone sui 60 anni che pensavano magari più alla pensione o cose simili ecco noi moriamo sul campo ecco esatto io stesso non ho mai concepito il concetto di pensione perché appunto per me salute permettendo ovviamente è lavorare come passione sono riuscito a farle coincidere quindi perfetto senti Giorgio io ti ringrazio tantissimo poi ci sentiamo per quelle robe di approfondimento perché mi è piaciuto molto il tuo interesse e ripeto a chi ci ascolta prendete Giorgio come esempio dacci una parola di saluto niente ragazzi saluto tutti è stato un piacere grazie a te Stefano che mi hai coinvolto in questa cosa e sì sappiate che l'intelligenza artificiale è una nuova frontiera e sicura che va sicuramente esplorata se ne può ci si guadagna in intelligenza in conoscenze ulteriori e anche come dice Stefano anche eventualmente come reddito ma io metto prima altre cose reddito va bene ma ci sono tante altre cose interessanti verissimo verissimo anche questo quindi grazie a te Giorgio grazie alle persone che ci hanno seguito e a presto grazie a tutti